Massimiliano Colodel, mi giro dalla controluce, faccio un po' di profilo così è stata dura, però hai fatto una bella battaglia con il Reziere, alla fine sei riuscito a fare un secondo. Sì, ho cercato di spingere all'inizio, però poi a tre quarti gara è finita la benzina, peccato per la prima match perché potevo fare un po' di odio, però va bene così, ci siamo divertiti, bella pista, alla prossima. Complimenti, ciao!